ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi ho una sola informazione news da darvi su automobilista 2 faccio questo video perché secondo me è di un'importanza mostruosa perché sono capitato sul file di log e non per caso quindi ringrazio la mia fonte preziosa nascosta che mi ha dato queste informazioni segretiste ma che in tutto il log in cui praticamente ho letto più o meno quello che ci eravamo detti l'ultima volta quindi questa termodinamica del pneumatico certe configurazioni eccetera in cui ne ho ampiamente discusso ce n'è uno in particolare che mi ha colpito ho detto devo assolutamente condividere questo con i ragazzi che mi seguono finalmente reiza si è messa di punta per sistemare i problemi del multiplayer i problemi multiplayer a parte il fatto che non ci siano siris oppure eventi ufficiali e quello comunque è un qualcosa che potranno risolvere secondo me in breve tempo era sicuramente l'affidabilità dei server parliamo delle lobby di chi poveraccio si mette a fare un server ma anche le connessioni ai server esterni o l'esperienza perché non ho fatto uno a parte che è difficile configurarlo perché se tu non hai un manager a parte diventi pazzo sono linee di linee di file di testo non si capisce nulla ma sono riusciti stanno lavorando sul fatto di rendere più affidabili le connessioni quindi tutti sti problemi di disconnessione eccetera e soprattutto tutti questi blocchi di server ecco tutti questi blocchi di server non si capiva perché non andavano avanti ecco quindi una cosa molto fastidiosa e quindi di conseguenza ho letto che hanno letto tutti i log e gli errori eccetera e stanno mettendo mani sul codice per sistemare quindi chi utilizza automobilista 2 sa che quanto è importante questa cosa che vi sto dicendo quindi ecco perché volevo condividerla ma voglio approfittare anche di questo video per segnalarvi qualcosa abbiamo creato insieme a sacco di amici pazzi scatenati come me che amano girare su automobilista 2 abbiamo creato un canale telegram dove potete accedere tranquillamente vi lascio il link qui in descrizione per ritrovarci per girare su automobilista 2 perché chi mi segue sa che miseramente ho fallito nel cercare di riempire una lobby pubblica un sabato pomeriggio un sabato lambda di pomeriggio di autunno dove sono entrate due persone quindi mi è venuto a stile ho detto aspetta chiamo un po tutti i miei amici e vediamo se facciamo un gruppo e così quando uno ha disponibilità dice ragazzi sono disponibili io scendo in pista chi mi segue e abbiamo raccolto in questo momento 56 persone tra cui c'è lui maury 72 ragazzi vi faccio vedere un pezzettino del suo video che poi vi consiglio di andare a vedere il suo canale giusto per farvi capire con quale spirito si scende in pista miglia che figata che figa comunque ragazzi sto gioco è fighissimo cioè scusa davide ti ho anche toccato prima vi pazienza ti chiedo scusa siamo riusciti anche in pochissimo tempo a creare un server privato nostro unendo le forze il che ci permette di avere due cose fondamentali uno una stabilità livello di connessione due la possibilità di configurare come vogliamo noi le il server quindi le combo e oltretutto abbiamo fatto una selezione naturale di quelle che sono le persone che sono all'interno del server e riusciamo a fare delle gare finalmente con un server popolato quindi ragazzi se siete appassionati anche voi di automobilista 2 non trovate persone per girare unitevi al nostro canale telegram sarete i benvenuti non ci vuole nulla basta cliccare qui sotto quindi che cosa state aspettando ragazzi veniteci a raggiungere ovviamente dovete essere appassionati di automobilista 2 cioè se venite percorrere e girare insieme a noi li troverete dove reperire le mod come installarle come funziona ad esempio discord perché molti non sapevano come funziona tutte le informazioni eccetera ci sono tutta una serie di topic e ovviamente tanta brava gente che ha voglia di divertirsi quindi ragazzi ho finito qua spero veramente di vedervi numerosi su questo canale per ritroverci in pista e niente se vi è piaciuto questo video un pollice in su iscrivetevi al canale ovviamente lasciatemi un commento noi ci vediamo sul canale telegram e prestissimo da fabbri se è tutto un abbraccio ciao